periodo critico nelle marche per gli incendi boschivi dopo l'andamento tranquillo del 2023 tornano le condizioni di secco e caldo che avevano funestato l'anno 2022 a causa delle persistenti condizioni meteo con temperature superiori alla media si sono verificati a partire dal primo luglio già nove incendi di bosco la superficie bruciata complessiva ammonta poco più di 13 ettari in media ogni incendio ha percorso circa 1,5 ettari gli incendi boschivi nella stagione estiva molto spesso sono causati da attività eseguite con incurie senza la giusta attenzione come nel caso dei fuochi accesi in campagna per bruciare le potature o le sterpaglie meno frequenti i casi di incendi appiccati con intenzioni di dolo così come gli incendi appiccati da piromani importante il lavoro svolto dalle squadre dei vigili del fuoco aiutati con un potenziamento periodico dell'assetto operativo a questo proposito infatti nei giorni tra luglio e agosto nel periodo di maggior rischio di incendi si aggiungono le squadre boschive pronte ad intervenire nelle marche per spegnere celermente gli incendi di bosco importante il compito della sala operativa unificata tra protezione civile e vigili del fuoco che consente uno scambio di informazioni continuo ed efficace per garantire la migliore gestione delle risorse necessarie per svolgere gli interventi oltre alle squadre a terra per combattere gli incendi vengono utilizzati validi mezzi aerei come i canadeira e un elicottero antincendio della regione marche con base a cingoli questo mezzo in 20 minuti è in grado di raggiungere qualsiasi luogo delle marche in totale anche quest'anno 53 unità dei vigili del fuoco si dedicano giornalmente alla lotta agli incendi boschivi sempre alta la guardia contro gli incendi boschivi nel 2023 è stato modificato l'articolo 423 bis del codice penale con un ampliamento delle fatti specie che rientrano nel reato di incendio boschivo e con l'inalzamento del minimo della pena sia in caso di dolo che in caso di colpa nel caso del dolo in particolare l'inalzamento del minimo a sei anni rende di fatto praticamente impossibile la sospensione condizionale della pena in caso di avvistamento di fiamme ogni cittadino può contribuire alla tutela dell'ambiente contattando tempestivamente il 112 numero unico di emergenza